Chiusura, potrei chiamarlo, anzi, dovrei chiamarlo vicepresidente della Camera, potrei chiamarlo candidato premier del Movimento 5 Stelle, ma invece vuole essere chiamato, lo chiamo Luigi Di Maio. Salve, buongiorno. Come stai? Sempre a mille. Bene. E allora, grazie intanto per, come dire, la solita visita annuale, perché ormai mi pare che ormai non salte più un anno e questo per noi è bello perché tra l'altro ci dà la possibilità di confrontarci, oltre che di valutare la crescita personale, insomma, e ora c'è questa recente candidatura, credo sia quasi la prima uscita pubblica da candidato premier, la prima, a mezzo. La seconda, ma sempre in termini di lavoro. Ma la prima non era, questa è quella ufficiale. In materia di lavoro mi pare che sia la prima, insomma, ecco, avremmo piacere di confrontarci con Luigi Di Maio su quello che è e l'idea di quello che potrà essere il programma in materia di lavoro. Io partirei proprio da questo e dalla, come dire, intanto noi abbiamo organizzato il festival del lavoro quest'anno a Torino, abbiamo voluto Torino e l'abbiamo fatto a Lingotto, Lingotto luogo aperto, a parte qualche limitazione venuta per motivi di pubblica sicurezza da noi non richiesta, però in un luogo aperto e aperto a tutti, il G7 lavoro si sono chiusi in una reggia, non arrivano notizie, non ne trapelano, noi cerchiamo di fare trapelare le nostre notizie, no? E magari cercare di parlare del futuro, perché parlare del presente è interessante, ma magari nei prossimi cinque anni, dieci anni, quale può essere invece il futuro del lavoro in Italia anche alla luce dell'innovazione tecnologica necessaria e indispensabile? Sì, prima di tutto buongiorno a tutti, è sempre un piacere essere qui e confrontarmi con voi. Il tema che affrontiamo oggi, che è quello dell'innovazione tecnologica e di come cambia il lavoro, è il tema non che riguarda un'idea di lavoro del futuro, è la tendenza mondiale, dove sta andando il lavoro e dove andrà nei prossimi anni. Io vedo qui in platea un mio collega che è Claudio Cominardi, circa tre anni fa abbiamo commissionato un lavoro come gruppo parlamentare, chiedendo ai massimi esperti col metodo Delfi, ai massimi esperti di lavoro in Italia, quali fossero le professioni che in questo momento stavano scomparendo e quali nel 2025 erano le professioni in crescita, in aumento, che nel 2025 ci saremmo ritrovati come professioni predominanti. Da questo studio è uscito fuori un dato molto interessante, da qui ai prossimi sette anni il 60% delle professioni come le conosciamo si trasformerà o sparirà, il 50% delle professioni nel 2025 diventerà professione legata al settore creativo. professione legata al settore creativo non significa quello che possiamo immaginare, cioè dei fricchettoni, no, qui stiamo parlando di professioni che si legano al turismo, alla cultura e alle nuove tecnologie. Per farla breve, noi oggi abbiamo un terzo delle professioni che sono legate alla fabbrica, un terzo delle professioni legate ai servizi, un terzo più o meno legate alla creatività. Nei prossimi sette anni il 50%, quindi la metà diventerà creativo. Io ti ho portato un'immagine che prima ho consegnato ai nostri tecnici, che se riusciamo a farla vedere. Questa è la copertina di Forbes di qualche anno fa, poi dopo vi dico qual era l'anno, in cui si diceva Nokia, un miliardo di clienti, qualcuno riuscirà a buttare giù il re dei telefoni? Questa copertina non è degli anni 90, questa copertina è del 2007, dieci anni fa. Dieci anni fa nessuno pensava che si potesse buttare giù la Nokia è il re di quei telefoni. Guardate il telefono che sta utilizzando. Per noi oggi è un reperto archeologico rispetto agli smartphone che abbiamo in tasca e che stiamo utilizzando. Nel giro di dieci anni la Nokia è scomparsa dalle classifiche dei primi 6-7 produttori di telefono e nel giro di dieci anni sono salite in vetta ai produttori di smartphone Samsung e Apple che l'anno prima aveva lanciato il suo primo iPhone. Che cosa voglio dire? Che al di là di quello che vogliamo noi sta arrivando un nuovo mondo del lavoro, sta arrivando come nel 2007 stava arrivando lo smartphone e chi non l'ha capito è fallito o è praticamente diventato una succursale della Microsoft. Oggi sta arrivando la Smart Nation, quella che noi chiamiamo Smart Nation che è un nuovo modello di paese in cui i lavori si trasformano e in cui noi non dobbiamo avere paura che si perdano posti di lavoro. Voglio dirti solo questo Rosario perché voglio mutuare uno studio che avete fatto anche voi del osservatorio statistico dei consulenti del lavoro. Voi ci avete fatto vedere come dal 2012 al 2016 ci sono stati 140.000 nuovi impieghi in lavori, nuovi legati al mondo creativo, alle professioni creative e 180.000 se ne sono perse in professioni che sono un po' la Nokia del 2007. Ora il gap è 40.000, è vero c'è un negativo di 40.000 ma in questi anni non si è investito nulla nell'innovazione tecnologica. Se noi vogliamo cominciare ad avviare un processo di recupero di posti di lavoro e rilanciare nuove professioni per i giovani e i meno giovani, ancora 35% di disoccupazione giovanile, basta che cominciamo a fare una cosa, investimenti in innovazione tecnologica. Internet è la più grande fabbrica di posti di lavoro al mondo. Se avessimo aumentato negli ultimi tre anni del 35% la diffusione di Internet avremmo abbattuto del 5% la disoccupazione giovanile. Se avessimo la diffusione dell'Olanda di Internet avremmo 270.000 posti di lavoro in più. investiamo in questi settori e cominciamo a rilanciare nuove professioni per non fare emigrare i nostri giovani. Sentendo di parlare mi viene in mente una cosa simpatica, perché tu vieni definito in maniera un po' anche squalificante, poi non ho capito perché, webmaster, da una persona che peraltro porta il mio cognome. Il tuo omonimo. Sì, io ho un presidente di regione che non manca mai di... ma a me fa ridere, quindi nessun rancore. Il mio presidente di regione, io sono campano, ogni tanto non manca mai di esternare la sua considerazione sul fatto che io venivo da questo mondo. Io ero uno che stava lanciando una start-up, che si occupava di social media manager, di web marketing. E ogni tanto il mio presidente di regione dice, è gigino webmaster. Vedere nei vostri elenchi, tra i primi posti, i lavori che hanno più crescita in questo momento, ci sono anche quelli di allora, per me è un grande anche segnale del fatto che dobbiamo investire in quel settore. Annalisti e progettisti di software è la prima delle professioni vincenti che il nostro osservatore ha individuato negli ultimi cinque anni. Però forse il governatore deve dare una modernata un po' alle cose. Vabbè, non è quello il punto adesso. È lo Stato che deve avere questa sensibilità. Senti, noi siamo in diretta, a parte le reti televisive nazionali, siamo in diretta su YouTube, su Facebook, perché insomma cerchiamo di andare a intercettare l'interesse anche di fasce non necessariamente vicinissime al nostro mondo ma che potenzialmente potrebbero essere o potranno esserlo. E su questo, e quindi è una domanda con un'attesa risposta specialmente da loro, cioè qual è la ricetta per bloccare la fuga dei cervelli dall'Italia? Allora, il punto secondo me fondamentale, poi si è detto tantissimo in questi anni, vale anche per la vostra professione come vale per tanti altri giovani o meno giovani italiani che provano a cimentarsi nel mondo del lavoro. Il primo punto, che siano lavori legati all'innovazione o meno, è cominciare a permettere a chi si vuole cimentare in una professione, in un lavoro, in un'impresa, nell'autoimpiego, deve necessariamente avere la possibilità di non trovarsi di fronte ad un muro di gomma, che è quello della burocrazia italiana, che guardate, io lo ripeto da anni, la burocrazia prima ancora di essere un problema della pubblica amministrazione, è un problema culturale della politica. Qui ogni anno si producono leggi su leggi su leggi che rendono la vita un inferno agli italiani e a voi professionisti. Allora, quando io parlavo prima di Smart Nation, di Stato intelligente, la prima cosa che deve fare uno Stato intelligente è smetterla di produrre una legge ogni due giorni e mezzo. Ne sanno qualcosa quelli che oggi stanno affrontando la giungla dell'IVA trimestrale, della dichiarazione trimestrale dell'IVA e quello che stanno, quello era un decreto, Rosario, quello era un provvedimento che era chiamata legge sulla sburocratizzazione, era stata inventata per sburocratizzare. Oggi quando incontro imprenditori, professionisti, ci dicono vi prego non fate più leggi sulla sburocratizzazione, non fatele più perché ogni volta che le fate ci introducete un nuovo adempimento che è un nuovo problema per noi. Ed è questa la sfida, la sfida del futuro non è fare più leggi. Voi non ci dovete chiedere più di fare nuove leggi, ci dovete chiedere di spostare i soldi da dove non serve e investirli nei settori produttivi di questo Paese, tra cui l'abbassamento dei costi e l'abbassamento della tassazione. Poi possiamo cominciare a parlare di tutto il resto, però se noi vogliamo evitare la fuga degli italiani all'estero e anche dei cervelli, dobbiamo fare investimenti. Gli investimenti si fanno con la legge di bilancio a fine anno, che è quando si sceglie se prendere 10 miliardi di euro dalle pensioni d'oro e metterle sull'innovazione, la ricerca o l'abbassamento del cuneo fiscale, ma faccio un esempio, ci sarebbero tante voci di spesa da citare, oppure prendere i soldi dalla sicurezza, dalla scuola, dall'istruzione e dalle tasse degli italiani e metterle sulle pensioni d'oro, perché questa è la legge di bilancio a fine anno in soldoni che ci deve spiegare come funziona un Paese. Poi ti voglio dire un'altra cosa, tra i tanti problemi che abbiamo questo Paese, se vuole essere uno Stato competitivo, un Paese che nel mondo del lavoro investe di nuovo e non fa scappare i giovani all'estero, deve prevedere anche un cambiamento radicale delle organizzazioni sindacali, perché se cambia il lavoro e se stiamo dicendo che nei prossimi sette anni stanno cambiando le professioni, sta cambiando il lavoro e allora anche il sindacato deve cambiare, dobbiamo dare più possibilità ad aggregazioni giovani di contare ai tavoli di contrattazione, dobbiamo dare più possibilità di ricambio nelle organizzazioni sindacali, ma soprattutto un sindacalista che prenderà la pensione d'oro, che prende finanziamenti da tutte le parti e sta lì a vita a fare il sindacalista, ha ben poca credibilità per rappresentare un giovane di 31 anni che lavora nel mondo oggi del mercato del lavoro. Quindi o, lo dico da qui e lo dico anche per quello che vogliamo fare noi, con noi al Governo o i sindacati si autoriformano o li indurremo ad una riforma, perché anche lì oggi dobbiamo cominciare a guardare al futuro e a come cambia il lavoro, ma soprattutto come cambiano le opportunità occupazionali, altrimenti si rischia di difendere posizioni di rendita e non i diritti dei lavoratori che sono un'altra cosa e che vanno tutelati al massimo. Questo argomento è assolutamente d'attualità, particolarmente se lo coniughiamo insieme all'innovazione tecnologica. Se il mondo del lavoro deve cambiare e per cambiare ha bisogno che tutti i criteri e i presupposti dell'innovazione siano toccati e messi in moto in Italia, necessita un cambio culturale da parte di tutti, anche dai lavoratori e anche dai loro organismi di rappresentanza, perché è finita l'epoca in cui un lavoro durava per sempre, ma è finita l'epoca in cui anche le competenze del lavoro durano per sempre. Quindi la necessità di riconversione delle proprie professionalità, anche alla luce delle nuove tecnologie, la necessità di riposizionarsi sul mercato è assolutamente antitetica alla strenua difesa del posto in quanto tale. Il posto va difeso con la professionalità, non soltanto con una battaglia a volte sterile che poi va quasi sempre a penalizzare i datori di lavoro. Io penso una cosa, che ormai il posto in quanto tale purtroppo, per esempio parlo per la mia generazione ma anche per quelle successive e precedenti, il posto in quanto tale in questo momento nessuno lo difende più. Noi qui siamo tutti disponibili sempre a formarci, a rimetterci in gioco. C'è un Paese pronto a fare questo. È che questo atteggiamento oggi manca ad uno Stato che non ha capito ancora quali sono le trasformazioni in atto. Io lo ripeto, il 2025 non è tra 20 anni, è tra 7-8 anni. Siamo lì. Se non è il 2025 è il 2026. Allora quando tu dici ad una persona, facciamo un esempio banale, vedo lo schermo piatto lì, ci sono le persone che lavoravano sulla catena di montaggio della TV a tubo catodico, hanno perso il posto di lavoro perché l'innovazione ha trasformato quel settore. Quando quella persona perde il posto di lavoro, tu Stato non devi difendere la produzione della TV a tubo catodico, hai perso in partenza, tu devi permettere a quella persona di formarsi, riqualificarsi e inserirsi magari proprio nella nuova filiera che è quella delle auto elettriche, quella dell'innovazione tecnologica, ma è anche quella dell'agricoltura, della cultura, del turismo. Però io ho letto uno studio dell'Eurostat del 2016 che dice che in Italia l'84% di chi ha trovato lavoro lo ha trovato grazie a passaparola di parenti o amici. Ma scusate, ma allora i centri per l'impiego e tutte le politiche dei centri per l'impiego che abbiamo messo in piedi in questi anni. A cosa servono? Quando noi parliamo del fatto politiche attive del lavoro, è quello. La Svezia ha 9 milioni di abitanti e ha 10 mila impiegati nei centri per l'impiego. Noi ne abbiamo molti di più e abbiamo 9 mila impiegati nei centri per l'impiego. Oggi dobbiamo riqualificare il personale dei centri per l'impiego, incrociare la domanda dell'offerta a livello nazionale, non solo a livello regionale, benché le politiche siano regionali per costituzione legate al lavoro. E soprattutto, una volta che abbiamo incrociato la domanda dell'offerta, la formazione. A me non interessa più se quella formazione si fa nel centro per l'impiego o nell'azienda. Io devo assicurarmi che la mia forza lavoro sia sempre qualificata e per essere qualificata ci devo mettere soldi. Noi abbiamo avviato già 4 anni fa un progetto di riforma dei centri per l'impiego che investe 2 miliardi di euro sono centri per l'impiego che garantiscono la flex security, che significa che io sono contro la precarietà, ma non contro la flessibilità del lavoro. Se c'è flessibilità nel mondo del lavoro, allora lo Stato ti prende per mano quando perdi il lavoro, ti riforma, ti riqualifica e ti reinserisce. L'assegno di reinserimento che è stato sperimentato e che si sta sperimentando non sta funzionando perché realmente non si è fatta una riforma dei centri per l'impiego e allora tu puoi dare i soldi a chi vuoi, ma se non trovano il posto dove andarsi a riqualificare seriamente. Io per esempio da me quando vado a incontrare gli operatori dei centri per l'impiego nella mia regione, loro che stanno lì, lavorano nel centro per l'impiego dicono ma noi siamo prima di tutto noi gli LSU, i precari che cerchiamo lavoro, come possiamo essere coloro che formano altri? Oggi è questa la vera sfida, formazione. Innovazione è uno Stato che la smetta di tartassare imprese e professionisti con le leggi. Il vero programma sulle imprese e sui professionisti è lasciarli in pace, uno Stato che li lasci un po' in pace e gli consenta di lavorare serenamente con meno scartoffie, lo diciamo da anni, però poi alla fine quando si cominciano a eliminare queste scartoffie se ne creano delle altre. Quindi il vero punto non è agire sull'eliminare il modulo, è eliminare la legge che ha istituito quel modulo e se cominciamo a fare un elenco tutti quanti insieme scopriremo che abbiamo tre enti che fanno lo stesso controllo, quattro leggi che istituiscono la stessa certificazione, cominciamo a riorganizzarle in tutta Europa, io ho lavorato con diversi parlamenti come Vicepresidente della Camera in questi anni per capire in Europa come stanno affrontando questo tema, non è solo un problema italiano, è un problema europeo, abbiamo riempito i nostri paesi di leggi e in altri paesi stanno inserendo una cosa che è innovativa, tu fai una legge, tu parlamentare, prima di tutto mi devi dire quali sono i tuoi obiettivi che vuoi raggiungere, se poi non li raggiungi perché io dopo due anni con una commissione controllo gli obiettivi di quella legge, un milione di posti di lavoro, bene dopo due anni vengo a controllarli un milione di posti di lavoro, ma se non hai raggiunto quell'obiettivo vuol dire che la legge è difettosa e quindi va eliminata e così liberiamo risorse e soprattutto liberiamo energie a chi lavora in questo settore, altrimenti immagino che non sia una vita semplice se continuiamo così e non sarà una vita semplice se continuiamo così. Bene, bene, parole chiare direi, no? Parole chiare. C'è un tema che è controverso e mi piace affrontarlo proprio per la trasparenza del dibattito, anche il reddito di cittadinanza. La proposta è intrigante, qualcuno dice se fossimo in Svezia perché poi il timore che percepisci è che dice sì, mi dichiaro disoccupato, mi prendo il reddito di cittadinanza e lavoro in nero, quindi alimento il sommerso. È evidente che siete troppo conoscitori della realtà per non aver pensato a questa criticità e immagino che abbiate anche una risposta a questa criticità perché in effetti queste sono situazioni che si sono ripetute negli anni con gli ammortizzatori sociali. Sì, io prima di tutto voglio dire una cosa. Oggi quanti strumenti esclusivamente assistenzialistici sono già nel nostro ordinamento? Tantissimi. Si finge di dire io ti do questi soldi però poi tu ti devi andare a formare, però come ho citato prima l'assegno, possiamo citare altri strumenti che sono stati introdotti in questi anni, sostanzialmente si garantisce un reddito a delle persone che perdono il posto di lavoro, che vengono espulsi dal mondo del lavoro e poi alla fine non gli si chiede nulla mai in cambio. Quello che vogliamo fare noi è, prima di tutto, istituire un nuovo atteggiamento dello Stato. Se lo Stato ti dà dei soldi, tu devi dare qualcosa in cambio allo Stato sempre, che è l'impegno alla formazione se ti riqualifichi in centri per l'impiego riformati, come ho detto prima, ma soprattutto lavori di pubblica utilità. Questo è un modello che non ci siamo inventati noi, Rosario, tu dici in Svezia, ma esiste in tanti altri paesi. Però dobbiamo un attimo considerarlo per fasce, perché noi abbiamo messo in un unico provvedimento il reddito di cittadinanza, abbiamo messo 17 miliardi di euro che alzano le pensioni minime a 780 euro, quindi le pensioni minime devono stare al di sopra della soglia di autosufficienza di una persona certificata dall'Euro Stato. la riforma dei centri per l'impiego sempre dei 17 miliardi di euro, 2,1 servono per la riforma di cui vi ho parlato prima. Terzo, tutte le volte che qualcuno percepisce un reddito deve dare al suo sindaco della sua città 8 ore gratuite di lavori di pubblica utilità per rimettere l'esigenza che ha il Comune. Detto questo, i 17 miliardi di euro li tagliamo dalle spese improduttive senza aumentare il debito pubblico e li mettiamo nell'economia reale, cioè c'è più gente che spende, infatti i nostri studi dicono un per cento di PIL in più. Il Jobs Act ci ha costato solo quello, 20 miliardi di euro, i 20 miliardi di euro dati alle banche, i 10 per gli 80 euro e poi i miliardi di euro messi tra assegno di ricollocazione e tutti quegli altri strumenti di reinserimento e così via. Sono molti più soldi che non hanno prodotto nessuno degli obiettivi che si erano dati. Noi con un provvedimento cerchiamo di riformare i centri per l'impiego, aiutare i pensionati minimi e riqualificare lavorativamente chi purtroppo rientrerà nel 60% di professioni da qui al 2025 che si trasformerà e cambierà e che necessariamente dovrà essere reinserito nel nuovo mondo di lavoro. Quindi è una misura economica e dentro c'è scritto anche che chi sgarra, chi rifiuta l'offerta di lavoro, chi in questi anni per esempio fa dichiarazioni mendaci, l'abbiamo visto in tanti altri casi e anche in questo, chi dichiara il falso rischia fino a sei anni di galera proprio perché abbiamo visto negli altri paesi come ci sono state le distorsioni. Perché non credere che negli altri paesi non ci siano i furbi, solo che c'è uno Stato che quando fa il furbo ti punisce e non ti dice che sei uno che ci ha saputo fare. Perché voglio dire solo questo, io ho 31 anni e ho tanto da imparare per carità, però ho capito una cosa in questi anni, tanti dei miei coetanei se ne andavano all'estero perché a un certo punto, prima ancora delle opportunità di lavoro, dei problemi, avevi uno Stato in cui chi si comportava sempre onestamente si vedeva superare da un disonesto che veniva apostrofato come uno che ci aveva saputo fare, uno intelligente, uno che aveva saputo operare e tu che eri sempre stato onesto ti sentivi un fesso. La meritocrazia è invertire questo rapporto. Cominciamo a premiare chi si comporta correttamente e a punire prima di tutto dal punto di vista morale chi si comporta in maniera scorretta. Abbiamo toccato un po' i temi, la burocrazia, il reddito di cittadinanza, abbiamo parlato di quello come i giovani, come cercare di attrarre ancora i giovani in innovazione tecnologica. Poi c'è, l'hai accennato ma mi piace farti una domanda specifica, questo tema che noi viviamo tutti i giorni, il costo del lavoro, il cunio fiscale più in generale, servono tanti soldi perché ne hai citati tanti anche per andare a coprire il reddito di cittadinanza, bisognerebbe trovarne ancora. C'è un problema di sprechi e quindi lì andremo a toccare altre situazioni di bilancio, però una ricetta flash su come ridurre il costo del lavoro? Io dico semplicemente una cosa, non sono uno di quelli che pensa che tutti i problemi economici di questo Paese si possano risolvere tagliando gli sprechi. C'è tanto da fare, io quando sono arrivato alla Camera come Vicepresidente i parlamentari si facevano rimborsare anche le punture d'insetto e le insolazioni. Quest'anno è stato il primo ferragosto che i parlamentari non potevano farsi rimborsare le insolazioni perché gliel'abbiamo fatto saltare l'anno scorso. Sto parlando di pochi soldi per carità, però è un atteggiamento culturale della politica che abbiamo visto in questi anni e che ha portato a tanti sprechi. Però voglio dirti pure un'altra cosa Rosario, noi abbiamo bisogno sul costo del lavoro di una manovra shock che ci permetta un attimo di far riprendere l'occupazione ma soprattutto la possibilità per le imprese, per gli studi professionali, di cominciare di nuovo ad assumere e quindi ricreare economia per dare gettito allo Stato e quindi da una parte ripagare il debito ma da un'altra anche poter fare ancora più investimenti nell'abbassamento del costo del lavoro perché poi è un circolo vizioso. In questi anni qual è stata la ricetta europea? Teniamoci nei parametri del 3% e così non aumenterà il debito, abbiamo segnato il record di debito pubblico qualche settimana fa e continueremo a segnarlo perché finché staremo in questi parametri alla fine continueremo semplicemente a tagliare dagli investimenti produttivi e ad aumentare le tasse, anche quelle occulte magari. Che cosa dico io? Abbiamo un vantaggio, la Spagna in questa Europa sfora il 3%, la Francia l'ha sempre fatto per le politiche demografiche, noi siamo l'ultimo paese per crescita demografica, la Francia è il secondo per crescita demografica e questo ha un effetto sulle pensioni, sulle tasse, ha un effetto su tutto, dobbiamo ricominciare a fare investimenti nelle politiche demografiche. Allora io dico, facciamo un po' di deficit produttivo, investiamo nell'abbassamento del costo del lavoro, investiamo in dei settori ad alto moltiplicatore e così vedrai e vedremo, non lo dico io ma lo dicono tutti gli studi, potremo rimettere in moto l'economia, aumentare il gettito dello Stato e poter con quei soldi sia ripagarci il debito sia continuare a sostenere questo abbassamento del costo del lavoro. Finché restiamo, che ci vendiamo l'argenteria di casa, i gioielli di casa per ripagare un debito ma poi il debito continua a crescere, io non vedo grandissime opportunità, potremmo sempre sopravvivere perché noi poi siamo un grande paese, un modo per sopravvivere lo troviamo sempre, però anche nei prossimi sette mesi l'Italia deve scegliere se continuare a sopravvivere o iniziare a vivere, a liberare le migliori risorse, energie, io ce la metterò tutta come so, tante altre persone magari non la pensano come me ma ce la stanno mettendo tutta, ognuno nel proprio settore per continuare a far crescere, a far vivere questo paese. Tutte le migliori energie si mettano insieme perché abbiamo degli anni davanti molto importanti che possono rappresentare una grande opportunità perché da quello studio con cui ho esordito all'inizio alla risposta alla tua domanda esce fuori che è vero che il 60% dei lavori si trasformerà, è vero che il 50% diventerà creativo ma proprio perché saremo leader nei settori creativi perché siamo uno dei paesi più creativi in Europa, per quello studio saremo il primo paese in Europa per attrazione di investimenti in questo settore, quindi abbiamo una prateria davanti, possiamo decidere di continuare a mettere miliardi di euro nel Jobs Act o cominciare a metterli negli investimenti produttivi che rilanciano questo paese. Vediamo come il nostro fumettista ha visto questo incontro, è che abbiamo un fumettino fantastico, non lo sapevo, è una novità di quest'anno. È una novità di quest'anno, ogni anno ne esce una. Conversazione Luigi Di Maio, la metà della professione del futuro saranno creative, sta arrivando un nuovo mondo del lavoro, dobbiamo fargliere lo sviluppo, la burocrazia è un problema prima di tutto per i professionisti, le imprese professionisti vanno lasciate in pace. Il sistema dei sindacati deve cambiare, spazio per le organizzazioni più piccole e giovani, turismo, design e tecnologia, politiche attive, riforma dei centri per l'impiego, investire in formazione per il lavoro e non contrastare l'innovazione. Promosso, devo dire. Ti devo dire una cosa, io spero che sia stato l'ultimo anno in cui abbiamo parlato di queste cose, spero di venire qua l'anno prossimo e dirti che le abbiamo risolte, un po' alla volta ma le dobbiamo cominciare a risolvere. Grazie Luigi Di Maio. Grazie mille, buona giornata, grazie.